Quarta edizione per lo Street Food Fest a Sciacca che si tiene quest'anno dall'8 al 12 agosto in Piazza Angelo Scandaliato con apertura degli stand dalle ore 18 in poi. Ancora una volta tantissima offerta culinaria, sono ben 27 gli stand presenti in Piazza del Popolo e tantissimi ospiti, musica, show, cabaret, insomma ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere delle belle ore in centro storico con la buona cucina siciliana come recita lo stesso slogan della manifestazione, la Sicilia in un boccone. I dettagli nell'intervista ad uno degli organizzatori, Luca Pallazzotto. Come ogni anno noi cerchiamo di apportare delle novità alla manifestazione per offrire alla cittadinanza un'offerta che sia essa culinaria o sia essa di spettacoli quanto più abbia possibile. Anche quest'anno nelle 27 diverse offerte culinarie che proporremo in Piazza Angelo Scandaliato durante i giorni della manifestazione ci sono nuovi piatti inusueti per la piazza di Sciacca. Questo vale anche per la parte artistica e quindi gruppi musicali ogni sera e anche spettacoli di carabarè e artisti di strada che insomma aglieteranno gli avventori durante i giorni della manifestazione. Ormai la location della manifestazione è il centro storico? Sì, bene, l'anno scorso insomma abbiamo apportato questa novità di location. La piazza Angelo Scandaliato con la sua balconata sul mare è sempre un colpo d'occhio spettacolare e ha un impatto su chi viene veramente ineguagliabile. Lo stazzone è nel nostro cuore sia come location che come abitazione però purtroppo gli spazi ristretti da quello che è la sistemazione della piazza non ci permettevano più di alloggiare nella meravigliosa piazza Bordomare dello stazzone e quindi ormai la location di Piazza Angelo Scandaliato è confermata. Perché venire allo Street Food Fest? Allora, venire allo Street Food Fest innanzitutto perché puoi trovare la Sicilia in un boccone come recita il nostro slogan. Quindi puoi trovare le pietanze tipiche della nostra bella terra, delle nostre tradizioni ma puoi trovare anche molti piatti nuovi a tua completa disposizione e anche per farti una bella serata in compagnia degli amici o dei fagli amiliari al ritmo delle note delle nostre band musicali e dei nostri spettacoli di cabaret. Ricordiamo a tutti l'appuntamento? L'appuntamento è in Piazza Angelo Scandaliato dall'8 al 12 del mese di agosto quindi accorrete numerosi perché mercoledì si inizia.